Dopo le doppie dimissioni dei vertici diregenziali dell'azienda sanitaria territoriale pesarese Nadia Storti ed Edoardo Berselli, il Partito Democratico Pesarese lancia un grido d'allarme rivolto alla piega preoccupante presa dalla Sanità regionale e invoca una terza dimissione, quella dell'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. Noi chiediamo anche un atto di responsabilità da parte dell'assessore regionale con le dimissioni. Questo per dire che cosa? Per dire che bisogna prendere atto di questa situazione. Non può la giunta regionale, in primis il Presidente Acquaroli, fare spallucce, ma bisogna prendere atto. Questa situazione non è normale, non basta sostituire le persone, bisogna capire che cosa ha prodotto questa disaffezione da parte di dirigenti importanti. Parole che la Fulvi pronuncia all'unisono ai segretari dem di Pesero e Fano, Bellucce e Minardi, riunitisi nella sede della provincia assieme ai consiglieri regionali Michela Vitri e Andrea Biancani. Per quest'ultimo, le dimissioni di Storti e Berselli sono la punta dell'iceberg di una situazione che è il suo peccato originale in una riforma sanitaria che Biancani giudica inapplicabile e che si declina da un atto aziendale che continua a tardare a reparti ospedalieri che non hanno certezza di destinazione, come quelli in uscita dal nosocomio di Muraglia prima della nuova edificazione. Questa doppia dimissione che è una vera e propria strage di dirigenti testimonia allo sfacelo che sta subendo la nostra sanità al punto che nemmeno i tecnici, le persone che ci hanno fatto uscire dalla pandemia, che hanno guidato la sanità nel periodo più devastante che potesse esserci, ora non vogliono metterci più la faccia. Questo la dice davvero lunga. Il rischio è che tutto vada in ritardo, anche i progetti che ci sono, come ad esempio il nuovo ospedale di Pesaro, ma in rischio c'è anche il ritardo dell'atto aziendale, che è quello strumento che definisce che cosa si fa nelle strutture ospedaliere ed è necessario sicuramente avere una definizione in tal senso, perché altrimenti vige lo sbandamento dentro le strutture e quindi lo sbandamento del personale sanitario, che è importante e strategico. E c'è anche un altro dato che oggi dimostra la situazione disperata che sta vivendo la sanità nelle Marche. È uscito ieri infatti il rapporto dell'Istat sui dati delle persone che hanno dovuto rinunciare alle cure mediche nel 2023 pur avendone bisogno. Ecco, in Italia sono state circa il 7,6% della popolazione. Questo dato aumenta nelle Marche fino ad arrivare quasi al 10%. Una situazione a dir poco allarmante, tanto che pone le Marche terz'ultime nella classifica nazionale solo dopo la Sardegna e il Lazio. L'allarme è grande e dico questo perché non è che vogliamo creare tensione nei cittadini, ma bisogna dire la verità, il silenzio è complice e la Regione deve intervenire subito, una volta per tutte. Basta con le campagne elettorali, basta con le promesse. Ricordiamo tutti i piccoli ospedali dell'entroterra che non sono stati assolutamente aperti. Quindi bisogna dare certezze e concretezze, soprattutto un'organizzazione sanitaria seria alla Regione Marche, a tutti i cittadini e in particolare alla provincia di Pesaro Urbino che sembra pagare il prezzo peggiore.